Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come rimuovere due file pesantissimi sul disco principale del sistema ovviamente questi file sono nascosti al sistema ovviamente questi sono i due file su desktop come puoi vedere sono di color grigio quindi ovviamente se io adesso vado su questo pc vado su disco locale e ci scendo fino a giù come vuoi vedere eccoli qua due file pesantissimi che si prendono quasi tutto lo spazio del mio disco principale ovviamente per rimuovere per vedere prima questi file e poi rimuoverli chiudiamo un attimo qua andiamo su opzioni esplora file visualizzazioni visualizza cartelle file e unità nascosti scendi fino a giù fino a trovare e nascondi i file protetti di sistema e togli questa spunta e fai applica questo è per la procedura windows 11 ovviamente per windows 10 per le cartelle si va su questo pc disco locale c'è scritto proprio qua sopra visualizza tipo su questo pc troverai generale visualizzazioni e cerca qua sopra qua sopra su windows 10 quindi quindi vediamo se ce li fa cancellare questi due file impossibile completare l'operazione perché il file è aperto in un altro programma va bene proviamo con quest'altro il file troppo grande per eliminare definitivamente il file facciamo sì sì perché il file è aperto in un altro programma ovviamente per risolvere questo problema andiamo su visualizza impostazioni di sistema avanzate andiamo su impostazioni avanzate memoria virtuale memoria virtuale toglie e gestisce automaticamente dimensioni file di pagina in questo qua nessun file facciamo ok e facciamo ok e facciamo applica e facciamo ok una volta fatto riavvia così il tuo sistema operativo e potrai cancellare questi due file se non si cancellano fai cmd prompt dei comandi esegui come amministratore il prompt dei comandi e aggiungi questo comando e facciamo invio cancello questo ovviamente non me lo fa cancellare perché devo riavviare il sistema però sono riuscito a eliminare l'altro file quindi riavviare il tuo sistema e potrai cancellare quel file per altri problemi commenta sotto al video se ti è stato utilissimo questo video iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao